M. Tiozzo si sapeva che prima o poi sarebbe dovuta arrivare, è arrivata oggi questa prima sconfitta lontano dalle Muramica, che cosa non ha funzionato oggi a Pinedo? Sì, probabilmente non è stato il solito Matelica, ma soprattutto forse nei primi 20 minuti, poi secondo tempo è sempre ingiudicabile perché si gioca poco, magari noi forzavamo giocate, loro stavano un po' a terra, perciò viene fuori un secondo tempo che è chiaramente frammentato, non si riesce a dare ritmo, è abbastanza ingiudicabile, i primi 20 minuti probabilmente non abbiamo giocato come si doveva, capendo bene la situazione dove loro cercavano di attaccarci un po' alti e noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare non benissimo, nonostante questo abbiamo creato due o tre occasioni buone, poi dopo il gol pensavo che avessero capito che dovevano giocarlo un po' di più, che dovevano manovrare un po' di più e muoverli un po' di più, visto che loro pressavano forte la palla. Ma ha vinto il campionato oggi? No, siccome sento urlare da 20 minuti, pensavo avessero vinto il campionato. Il campionato però si è riaperto, possiamo dire così? Ma il campionato è sempre stato aperto, perciò io lo dico da quando, da sempre, non so neanche cosa abbia fatto la nostra avversaria, non so cosa mi hanno fatto gli avversari, so che il Mattelica ha perso un a zero, meritato o non meritato non lo so, credo sia stata una partita molto agonistica da parte loro, non giocata benissimo da parte nostra, o meglio, non giocata ai nostri livelli da parte nostra, però prima o dopo dovevamo trovare una squadra che ci imbavagliava un po', loro ci hanno provato, poi insomma hanno vinto su una ribattuta da rigore, non ci hanno ne preso a schiaffoni nella faccia, non ci hanno menato, non hanno fatto calcio spettacolo, ecco, hanno uno a zero, vuol dire che hanno meritato di vincere. Ci tenevamo molto a fare una grande partita oggi, riprendevamo dopo le festività natalizie, in settimana abbiamo avuto qualche problema, qualche giocatore importante, però sapevo di poter contare su un gruppo forte, l'avevamo già dimostrato alla gara d'Avezzano e oggi anche contro la prima della classe abbiamo fatto una grande prestazione, con l'atteggiamento giusto, con l'interpretazione giusta della gara, quindi una vittoria meritatissima. La prestazione è stata di gruppo importante, però parliamo magari anche di qualche singolo, c'era l'esordio di Marianeschi, diciamo positivo sicuramente. Sicuramente, considerato che non giocava da 5-6 mesi una partita intera, era una situazione un po' precaria anche per la squadra, però ha tenuto benissimo il campo, penso però che i meriti sono stati di tutti quelli che sono scesi in campo, perché abbiamo avuto una pressione dei ritmi alti, non l'abbiamo fatto giocare in Matelica in ogni zona del campo e non è facile perché il Matelica ha un impianto di gioco importante, è una squadra che quasi sicuramente vincerà il campionato, se la giocherà con la Vispesaro e noi dovevamo fare una partita sotto questo punto di vista, l'abbiamo fatto quindi un grande locio ai ragazzi per l'interpretazione, però adesso finita questa gara c'era soltanto preparare la prossima, andiamo avanti di partita in partita, è una vittoria che fa crescere l'autostima della squadra, sappiamo che il gruppo è cresciuto e abbiamo bisogno di una vittoria importante, l'abbiamo fatta bene.